we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi abbiamo un sacco di roba interessante di cui parlare oggi per quello che riguarda il futuro di fortnite vedremo finalmente la nuova collaborazione di fortnite con avengers con due premi in regalo per tutti i possessori di console ma oggi anche giornata importante per il nuovo abbassamento dell'acqua e per l'arrivo di nuove skin segrete prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica per i miei video news e allora andiamo direttamente al primo argomento di oggi uno dei più importanti che vi ho annunciato e sbada bam nuova notizia sulla pagina ufficiale di epic games due nuovi picconi in regalo sono le mani di hulk e le mani di iron man oh mio dio sono meravigliosi purtroppo non abbiamo degli spezzoni perché ancora non sappiamo come saranno in in video ma giuro che se si li infilano come come mani e tirano le cartelle piuttosto mi compro un xbox ragazzi piuttosto mi compro un xbox vi leggo un attimino gli articoli ottieni il piccone spaccapugni di hulk e lo stile bonus hulk buster quando completi la beta di marvel's avenger su ps4 e xbox one scatene il tuo hulk interiore prima della pubblicazione del videogioco marvel's avenger che dovrebbe essere il 16 e il 17 agosto per ps4 e il 28 29 per xbox vi scrivo tutto meglio su instagram i giorni ne parliamo anche in live non preoccupatevi i giocatori di fortnite su ps4 e xbox one potranno sbloccare e scatenare il piccone spaccapugni di hulk e lo stile bonus hulk buster per come ottenere il piccone per mettere le mani su questi incredibili mani incluso lo stile hulk buster dovrai completare tre sfide danno su ps4 o xbox one le sfide danno penso che siano dentro anzi sono certo che siano dentro la beta del nuovo videogioco degli avengers distruttori gratuiti nota il piccone spaccapugni di hulk e lo stile hulk buster verranno messi in vendita in seguito nel negozio oggetti quindi lo potremo ottenere tutti però noi pagando i vbux la beta di marvel avengers sarà disponibile per il download sugli store di xbox live e ps4 ecco il calendario completo della beta 7 9 agosto beta preordine playstation 4 preordine marvel avengers sono giocatori di ps4 14 16 agosto beta aperta ps4 14 seta 16 agosto beta preordine xbox one 21 23 agosto beta aperta su ps4 e xbox one oltre a completare le tre sfide danno attenzione dovrai assicurarti che gli account della console di epic e di square enix siano collegati correttamente per prima cosa assicurati che i tuoi account di playstation o xbox live siano collegati al tuo account epic games lo vedete tranquillamente nella pagina del vostro account sul sito di fortnite mi raccomando dopodiché visita il sito e c'è lì il link e collega il tuo account epic games ricorda che l'ultima beta di marvel's avengers termina il 23 agosto per evitare frustrazioni ricordati di completare la beta e le sfido da e le sfide danno prima che sia troppo tardi quindi ragazzi wow tanta roba un nuovo regalo per tutti voi giocatori da console noi purtroppo da pc non abbiamo questo privilegio ma la dovremo prendere nel negozio non vedo l'ora di vederla in game non vedo l'ora di farvela vedere in qualche spezzone di gameplay e andiamo avanti a parlare di un'altra curiosità davvero interessante oramai sapete che ieri è uscito ufficialmente il bundle summer legends in tutto il mondo lo potete acquistare al prezzo di 19,99 se non ricordo male ma forse non avete visto il trailer ve lo faccio vedere un secondo prima di parlarvi dell'argomento eccolo qua è molto molto fresco come trailer avete visto bellissimo ma i più attenti avranno notato sicuramente un particolare molto interessante che è proprio una nuova skin spoilerazzata di prepotenza nel trailer questa skin è molto carina perché è una ragazza che ha qualche tratto da motociclista ma come vedete ha un sacco di bossoli sparsi per tutto l'outfit ora io non so ma mi richiama un attimino spina dorsale per chi non sapesse chi ha spina dorsale noi chiamiamo simpaticamente culion è il motociclista che non esce da tipo 600 giorni su fortnite secondo me potrebbero esserci degli spiragli per un suo ritorno e quindi comunque ragazzi tanta roba una nuova skin spoilerazzata e siamo già passati al nuovo argomento perché oggi alle 9 un nuovo abbassamento del livello dell'acqua ragazzi il livello vl1 davvero molto interessante perché è l'ultimo stage per quanto riguarda l'abbassamento dell'acqua quindi la mappa tornerà riemergerà completamente come state vedendo intanto nell'immagine qua di fianco questa sarà proprio quello che vi apparirà quando aprirete la nuova mappa la nuova minimappa alle ore 9 la cosa interessante è che siamo al vl1 ma ci manca anche il vlz water level 0 vl0 volevo dire il water level 0 è quello che includerà la nuova location che è atlantide in alto a sinistra dove c'è il megavortice sappiamo che sotto è presente tutta la location di aquaman anche perché devo dire che dopo che ci ha andato aquaman non se ne è più parlato diciamo che non la stiamo vivendo come è successo nella precedente season con deadpool che invece era sempre presente l'avevamo in lobby e poi abbiamo visto lo yacht di deadpool e secondo me è stato molto più divertente come collaborazione vuoi anche perché il personaggio era abbastanza ignorante ma come notate ragazzi riemerge completamente quindi mappa torna come la conoscevamo completamente fuori sabbie completamente fuori tutte le location i corsi d'acqua rimangono quelli e non vedo davvero l'ora di vedere poi la nuova location proprio lì in quella parte alta a sinistra dove c'è ancora tantissima acqua davvero non vedo l'ora anche perché arriverà nella patch 13.40 dove si aspettano speriamo i veicoli arriviamo all'ultimo argomento di oggi ragazzi ci sono le nuove ltm non abbiamo purtroppo ancora in mente la rotation delle ltm ma abbiamo notato che nel trailer del summer legends c'è menzionato il fatto che torneranno le classic ltm quindi quella che è disponibile adesso è la modalità assorbi vi ricordo non troverete cure in giro per la mappa ma l'unico modo per ottenere shield oppure salute sarà quello di killare gli avversari quindi già il siphon in poche parole tornerà anche la modalità far west perché ho visto nelle immagini che dovrebbe essere quella dove troviamo solamente armi che erano presenti allora nella season 10 barra 9 ora non mi ricordo bene e tanto tanto altro divertimento mi sono scordato dell'ultimissima cosa una notizia direttamente dall'estero anzi no non riesco a dirvela quello ma ve ne dico una un po più importante perché nell'epic game store sono disponibili tre nuovi videogiochi totalmente gratuiti se riuscite oggi ragazzi dovreste avere qualche altro minuto per scaricare next up hero e tacoma che poi non saranno più gratuiti subentreranno invece zox credo che si pronunci oppure 20 x x baroni che mi ispira molto quella grafica vintage e super brothers sword e strawberries quindi ragazzi se non sapete a cosa giocare vabbè potete provare a dargli una chance tanto non vi costa assolutamente nulla ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao